non mi sono mai lamentato degli arbitri lo sapete benissimo mai mai io però dopo ieri sera ho visto soffiare un brutto vento stai attento attenzione perché quest'anno dovremmo lottare contro tutto e tutti un gol da annullare in indipendentemente dall'errore del calciatore perché lì di marco fa un ingenuità le quelle cose non si fanno ma indipendentemente da quello e fallo quindi voglio dire si annulla tutto di cosa stai ragionando si annulla tutto tutto si annulla dai fallo e annulli il gol di cosa ragioni peccato che avendo visto l'arbitro il varra non ha potuto annullare questo ho visto che anche ieri non l'ha detto nessuno mi sono dimenticato di dirlo anche io peccato che l'arbitro ha visto non si può annullare è però contro il bologna ve lo ricordate questa regola qui non è valsa quindi di che cavolo stiamo ragionando contro il bologna cosa è successo quindi di cosa stiamo ragionando qui occhio occhio se te e voi che io parli del Milan quelli lì hanno hanno mandato via Maldini hanno speso comunque tanti soldi e hanno fatto il mercato con l'algoritmo e questo è il risultato del Milan fortunatamente l'inter può piacere non può piacere possono piacere non possono piacere a me ausilio piace tantissimo ve l'ho sempre detto molto meno marotta nelle operazioni di mercato a me piace ausilio ve l'ho sempre detto infatti tu ram gratis chi te l'ha portato te l'ha portato ausilio otto undicesimi della squadra che ha vinto il campionato chi te l'ha portata te le ha portati ausilio poi ognuno ha le sue ma noi a differenza loro abbiamo comunque una struttura importante a livello dirigenziale questo va riconosciuto anche per blasone per nomi questi dove voi che vadano fanno ridere palo del milano ovviamente c'è stata una cosa ieri da ex calciatore del mio piccolo ma c'è stata una roba il lancio di cialanoglu su un campo bagnato barra sintetico attenzione è totalmente diverso giocare su quei campi lì bagno bagna il campo bagnato e sintetico da una palla c'è il contagiri nei piedi la palla arriva precisa dove deve arrivare con con che forza lui da quella piattata perché lui la dà di piatto quella palla o che forza arriva precisa dove deve arrivare campo bagnato e sintetico quelli sono gesti da fuori classe stai attento cialanoglu ieri fa un gesto da fuori l'arse sul rigore sudarmian come fa un gesto da fuori l'arse lautaro martinez che due anni fa io ho avuto tante discussioni con molti di voi perché veniva criticato lautaro martinez io ve lo ripeto un giocatore può piacere o non può piacere ma io non riuscivo a capacitarmi del fatto che un calciatore come lautaro venisse criticato lautaro martinez ha raggiunto una maturazione che praticamente lo ha messo tra i top player nel mondo perché lautaro martinez ad oggi è un top player ok certificato poi da lì a dire l'inter gli darà 10 milioni vediamo poi dopo gli darà 10 milioni all'autaro martinez che ingaggia 10 milioni in italia non esistono più gli da zanghi 10 milioni all'autaro lo vedremo quanti soldi prenderà l'autaro e vedremo chi glieli dirà chi glieli darà a parte questo ragazzi io ci sono i video e lo testimoniano non fare furbo con me io dissi è interessante la figura di melodi due settimane fa c'è il video c'è il video prima del cda dell' assemblea prima di temptation island io ti dissi guarda che questa figura è interessante guardate studiate a tele lombardia e comunque non è proprio telecapri bravezzani dice ci sono due donne cinesi cinesi che si stanno occupando della vendita ti dio me la vedo io ti voglio dire solamente una cosa di melodi perché ti ti dissi è interessante questa melodi anche se devo riconoscere dissi metteranno uno che farà riferimento a sunning perché ancora ci sono loro quindi non possono mettere un altro a maggior ragione se sta cambiando la proprietà continueranno a tenere una certa tipologia di squadra non metteranno nessuno di nuovo infatti hanno messo hanno messo questa signora che fa riferimento a sunning no? allora perché ti dissi è interessante poi io so ancora tantissime altre cose però ho aspettato prima di dirle però ti dico una cosina molto semplice a maggio duemila ventuno il signor zang prende il prestito da octree va bene a maggio duemila ventuno zang prende il prestito da octree a luglio duemila ventuno la signora melodi lascia ubs sappiamo tutti che rapporti a ubs con brookfield andate a cercare lì se se non li sapete la signora melodi lascia ubs sapete chi è ubs per entrare in sunning dove si occupa di finanza e si occupa solo dell'inter quindi ha la stessa funzione del signor antonello quindi qualcuno ha detto giuse ubs ha messo una persona è una po tramite brookfield hanno messo una persona in sunning per controllare questo lo lascio a voi la lascio a voi questa valutazione ma sulla signora melodi ci sono tantissime altre cose da dire le diremo più là tanto è un uscito fuori ci sono due donne cinesi che si occupano della vendita dell'inter io ti dico no secondo me no ci sono due donne cinesi che si occupano della vendita dell'inter è diverso tra cui ovviamente una è lei si riferiscono a lei ovviamente cioè dire queste donne sono qui a valutare le proposte mi sembra riduttivo queste donne sono qui per portare a compimento la cessione messe dal governo cinese forse questa la verità eh non è che stanno valutando le offerte sono qui per portare a compimento la cessione tramite il governo cinese perché ve lo ripeto per l'ennesima volta ragazzi l'inter è in mano al governo cinese zang non decide più nulla da due anni vi abbiamo fatto vedere i passaggi quote vi abbiamo fatto vedere tutto nella live con i ragazzi che abbiamo fatto quindi sono qui per portare a compimento la cessione io però ragazzi non sento più parlare di rifinanziamento perché c'è un giornale sembra sia diventato un giornale del partito comunista cinese che parla sempre a pro che fa commiati di rifinanziamento dov'è ziliacus dove è andato a finire lo sa che mi ha detto che ziliacus apre un canale youtube mi ha detto se se può venire in live con noi con i ragazzi e gli piacerebbe antani dove è andato a finire antani comunque ragazzi sono contento ho visto un inter piuttosto bella attiva cioè è una squadra matura molto più matura dell'anno scorso questa la finale di champions league può aver fatto bene non lo so ma questa è una squadra matura tosta di diversa da quella dell'anno scorso occhio però a venticello quello che mette le maglie sulla caldaia occhio a venticello e a brutto vento che sta attinando perché per bologna non vale vede l'albitro il var non può annullare poi annullano fanno un po' come gli pare quando incontrano noi ti dirò di più pavar secondo me fortunatamente non sembra niente di grave qualche settimana pavar si fa male anche grazie alla gestione scandalosa di questo arbitro perché come si chiama colasinac doveva essere già buttato fuori da 40 minuti ma di cosa stai ragionando ciao mente grazie a tutti grazie a tutti